Oggi ti mostro come realizzare queste bellissime presine all'uncinetto. Ciao, io sono Letizia, creativa del canale Vivi con Letizia, dove puoi trovare tantissimi progetti di riciclo creativo, fai da te e trucchetti per casa e anche uncinetto. Nel tutorial di oggi ti mostro come realizzare queste presine con la tecnica C2C, corner to corner, in italiano da angolo ad angolo. Come vedrai, una volta capito il meccanismo, realizzare le presine o qualsiasi altro oggetto come copertine, tovagliette, eccetera, con questo tipo di tecnica è davvero molto semplice. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Ora passiamo al tutorial, continua a guardare! Questa è una presina all'uncinetto che ho realizzato con la tecnica C2C, è una tecnica che conosco da poco tempo, pensavo fosse difficile ma in realtà potrete vedere anche voi che una volta capito il procedimento è davvero molto facile. La lavorazione non è la classica dell'uncinetto, i punti possono essere maglie alte o mezze maglie alte e come vedete la lavorazione è costituita da tutta una serie di quadratini. La cosa bella di questa tecnica è che per realizzare i disegni si possono utilizzare degli schemi, ad esempio del punto croce. Io vi consiglio di iniziare con schemi semplici proprio per capire il funzionamento. Ora io ti spiegherò questa tecnica avvalendomi di questo schema che ho creato io. Questo schema è leggermente diverso da quello che ho utilizzato per realizzare questa presina. Nella descrizione sotto al video vi lascio il link per scaricare lo schema sia di questa presina sia di questa che andremo a realizzare adesso. Con questa tecnica non si lavora nel modo classico, sai che nel modo classico per lavorare all'uncinetto o si lavora a spirale oppure si lavora per righe. In questo caso si lavora in diagonale. Come vedi sullo schema ci sono dei numeri sia in orizzontale che in verticale. La numerazione delle colonne, come vedi, non parte da sinistra verso destra ma da destra verso sinistra. Si parte da questo quadratino. Tutte le righe dispari si lavorano da destra verso sinistra e tutte le righe pari da sinistra verso destra. Ogni tanto, soprattutto all'inizio, può capitare di confondersi. Quindi io ti consiglio di cancellare tutti i numeri delle righe pari in modo da ricordarti che lo schema parte sempre con i numeri dispari da destra verso sinistra. Per comodità, se preferisci, puoi tenere lo schema in questo modo nel momento. Come ti dicevo, la lavorazione della tecnica C2C prevede che si formino tanti piccoli quadratini. Devo iniziare facendo il primo quadretto bianco. La regola della tecnica C2C vuole che se io faccio la lavorazione con le maglie alte, 3 catenelle sostituiscano le maglie alte. Questo succede anche nell'uncinetto, diciamo, normale. Mentre se faccio la lavorazione a mezze maglie alte, una a mezza maglia alta sia sostituita da 2 catenelle. L'avvio del lavoro avviene con 6 catenelle. 3 catenelle sostituiscono una maglia alta, quindi io lavoro una maglia alta nella quarta catenella a partire dall'uncinetto, una maglia alta in quella successiva e una maglia alta anche nell'ultima. Sono arrivata a questo punto, ora devo fare il giro di ritorno. E devo fare 2 quadretti. Inizio facendo 6 maglie alte e ripeto la lavorazione di prima. Una maglia alta nella quarta catenella a partire dall'uncinetto, nella quinta e nella sesta. Giro il primo quadratino che ho fatto e mi infilo nell'archetto delle 3 catenelle e faccio una maglia bassissima. Faccio 3 catenelle. In questo caso non ho bisogno di farne 6 di catenelle perché le 3 maglie alte successive le farò nell'archetto. Quindi faccio 3 maglie alte e ho terminato la seconda diagonale. In pratica il mio lavoro è così. Ora devo fare la terza diagonale, però voglio mostrarti la differenza fra questa lavorazione e questa. Per evitare che ci sia un buco così evidente nella lavorazione non considero 3 catenelle come sostituzione di una maglia alta ma ne considero 2. Anziché partire con 6 catenelle partirò solo con 5 catenelle. Riparto, faccio 5 catenelle, faccio una maglia alta nella terza catenella a partire dall'uncinetto, poi nella quarta e poi nella quinta. Per la seconda diagonale ripeto il procedimento di prima solo che anziché fare l'aumento con 6 catenelle lo farò con 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Faccio una maglia alta nella terza catenella una maglia alta nella quarta e una maglia alta nella quinta. Giro per andare ad agganciarmi nell'archetto di catenelle del primo quadretto. faccio una maglia bassissima, 2 catenelle che sostituiscono una maglia alta e poi faccio una maglia alta nella quinta. Come vedete il buco è molto meno evidente. Sono arrivata a questo punto, devo fare la terza diagonale da destra verso sinistra e sono qua questo e questo devo fare un aumento di un quadretto. Funziona sempre al solito modo. faccio una maglia bassissima e faccio una maglia bassissima 2 catenelle 2 catenelle 3 maglie alte e siamo arrivati alla fine della terza diagonale. Ora dobbiamo fare la quarta diagonale. Per fare l'aumento procedo al solito modo. 5 catenelle poi 3 maglie alte All'inizio pensavo di sbagliare perché vedevo tutti questi quadretti che più che quadretti sono rettangoli. non preoccuparti, è normale. A mano a mano che procedi con la lavorazione hanno una forma più quadrata. Ho fatto questo quadretto mi aggancio nell'archetto faccio una maglia bassissima poi 2 catenelle e poi 3 maglie alte e procedo con la lavorazione fino alla settima diagonale per poi farti vedere come si fa il cambio colore. Ho appena finito la settima diagonale. A mano a mano che vai avanti con lo schema ma per non confonderti nella lettura delle diagonali puoi mettere delle x su tutti i quadretti che hai già lavorato. Ora devo lavorare l'ottava diagonale. Ci sono 1, 2, 3 quadretti bianchi 1, 2, 3 quadretti rossi e poi 1, 2 quadretti bianchi. Ho finito il terzo quadretto bianco e ora devo farne 3 rossi. Per fare il cambio colore anziché chiudere il quadretto con la maglia bassissima e con il filo bianco lo farò con il filo rosso. Tengo da questa parte il filo bianco perché al ritorno, in questo modo, ce l'ho già dalla parte giusta per ricominciare la lavorazione del bianco. Aggancio il filo rosso, me lo trascino nell'asola bianca e tiro bene. Tiro bene anche il filo rosso in modo che non rimanga troppo largo. inizio col fare 2 catenelle. L'inizio del filo rosso lo lavoro chiudendolo con le maglie alte. Dopo le 2 catenelle faccio 3 maglie alte, eccetera. A questo punto sono qua. Questo quadretto rosso corrisponde a questo quadretto rosso. ne faccio altri due. Ora devo fare gli altri due quadretti bianchi. A questo punto dovrei tagliare il filo bianco, affrancarlo, ricominciare da qua, tornare indietro, fare i due quadretti bianchi, fare i quattro quadretti rossi, tagliare il filo bianco per riagganciarlo qua. Ora c'è un piccolo trucchetto. Per evitare di avere continuamente fili tagliati nel lavoro, crea una piccola matassina di filo e l'avvolgo attorno a una clip. Puoi usare una clip, una molletta, qualcosa che ti permetta poi, quando ti devi fermare, per qualsiasi motivo, di fermare il filo sul lavoro in questo modo. Il filo lo blocco così per non rischiare poi che si disfi la matassa quando muovo il lavoro. Faccio la stessa cosa col filo rosso. Questo si fa anche per evitare di avere figli che si intrecciano e si ingarbugliano uno con l'altro. Così è davvero molto più comodo. Ora devo fare un nuovo cambio colore. Per farlo uso lo stesso metodo che ho usato prima. Mi infilo nell'archetto, tiro il filo e faccio la maglia bassissima col bianco. Faccio 2 catenelle e proseguo con lo schema. Ho concluso anche l'ottava diagonale e ora parto con la nona. 2 bianchi, 4 rossi e 3 bianchi. Faccio sempre il quadretto di aumento. Ora devo partire con i 4 rossi. Entro nell'archetto, prendo il filo rosso, tiro quello bianco per avvicinare. 2 catenelle, 3 maglie alte e proseguo. Ho fatto i 4 quadratini rossi e procedo al solito modo, maglia bassissima. Ora io continuo nella lavorazione, sono arrivata alla quindicesima diagonale. Inizia la lavorazione della sedicesima ma non devo aggiungere un altro quadretto, non devo fare un aumento perché un quadretto qua non c'è, devo fare una diminuzione. Questo quadretto è questo, questo lato è questo, devo andare a lavorare questo quadretto. Per farlo devo fare 3 maglie bassissime e poi ricominciare la solita costruzione per così dire del quadretto. Lavoro la prima maglia bassissima nel primo punto alto, la seconda maglia bassissima nella seconda maglia alta, la terza nella terza e poi costruisco il quadretto. Quindi faccio 2 catenelle, 3 maglie alte e ricomincio con la solita lavorazione. e poi faccio 3 maglie bassissime, 1, 2, 3, in questo modo si è già formato quest'angolo. Quindi faccio 3 maglie bassissime, 1, 2, 3, in questo modo si è già formato quest'angolo. Questo è questo quadretto e questo è questo qua. Dobbiamo continuare aggiungendo un quadretto qua. Riprendiamo la lavorazione come al solito, 2 catenelle, 3 maglie alte, mi aggancio con una maglia bassissima e continuo allo stesso modo con la lavorazione. Ho terminato l'elaborazione della presina, sono arrivata all'ultimo quadretto in alto a sinistra e ora procedo ad affrancare. La presina si può anche lasciare senza bordino oppure puoi decidere di fare questo tipo di bordino. inizia con un giro di maglia bassa. Prendendo come riferimento questi due quadretti, faccio il primo punto nell'archetto, il secondo qua in mezzo, il terzo, quarto e quinto. 5 punti che ho fatto sono questi. Qui c'è l'archetto da cui ripartirò per fare altri 5 punti. arrivata all'angolo ne faccio 3 nello stesso punto, 1, 2, 3 e poi ricomincio come prima. Sono arrivata alla fine del giro e ho chiuso con una maglia bassissima. Ora per fare il bordino a onde dobbiamo lavorare dei gruppetti di 5 maglie alte. non faccio catenelle aggiuntive, salto 2 maglie di base e nella terza faccio 5 maglie alte. Salto 2 maglie e faccio una maglia bassissima. E ripeto, salto 2 maglie di base e faccio 5 maglie alte. Salto 2 maglie di base e una maglia bassissima. Arrivo all'angolo, faccio la maglia bassissima nella prima delle 3 maglie basse che ho fatto all'angolo. Poi faccio 3 maglie alte nella maglia centrale delle 3 che avevo fatto nell'angolo. E faccio una maglia bassissima nella terza delle maglie basse che avevo fatto all'angolo. E poi ricomincio con la lavorazione. Ho completato il giro, mi aggancio con una maglia bassissima nella maglia bassa centrale delle 3 dell'angolo. Anziché fare il ventaglietto centrale e faccio 15 catenelle. Concludo facendo una maglia bassa nella stessa maglia in cui avevo fatto la maglia bassissima. Dopodiché torno indietro facendo 30 maglie basse nell'archetto formato dalla catenella. Faccio una maglia bassissima e chiudo il lavoro. Ora posso concludere il lavoro affrancando tutti i fili. Se ti piace un tutorial come questo ti ricordo che puoi iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella. Per non perderti nessuno dei prossimi video. Tu conoscevi già la tecnica ad uncinetto corner to corner? Fammelo sapere nei commenti. Puoi anche mandarmi le foto delle tue creazioni tramite Instagram o Facebook. E se questo video ti è piaciuto potresti lasciarmi il tuo like e condividerlo sui social. Io ti ringrazio fin da ora. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!